Il suo intervento sarà il perdono, in questo momento a volte anche di tensioni internazionali, magari parlare di perdono è difficile? Non parlerò di questioni internazionali o di politica, cercherò di spiegare come vedo il problema del perdono nel Vangelo e in San Francesco, in termini molto generali, dopodiché ognuno trarrà le morali che vuole, si specchierà se ci riesco su questa idea del perdono che è del Vangelo che è di Francesco e ognuno misurerà la distanza che lo separa da quest'idea. Il tema del perdono è tipicamente cristiano oppure trappartiene ad altre culture? No, anche nel primo patto, anche nell'Antico Testamento questo tema è importante, però certo nel Vangelo assume un timbro straordinario e mai realizzato.